Da anni è diventata la principale arteria stradale cittadina, ma su asfalti e rotatoria dell'Interquartieri di fatto non si mette mano dalla creazione stessa della strada. È arrivato il momento, lo ha preannunciato il sindaco Matteo Ricci a Villa Fastigi e Villa Ceccolini in una delle tappe del format Sindaco per i quartieri in cui si fa il punto su opere completate e cantieri da realizzare. L'Interquartieri è uno di questi cantieri dove saranno ristrutturate rotatorie e sarà migliorato il drenaggio di un asfalto che spesso fatica a far defluire l'acqua piovana. Ora il progetto passa dagli annunci alla discussione in giunta comunale. Una volontà forte da parte del sindaco di destinare delle risorse dell'avanzo di amministrazione sulle asfaltature, in particolare destinarle all'asfaltatura degli interquartieri. Noi fino adesso ci siamo mossi anche chiedendo un po' ai vari quartieri quali erano le vie in cui preferivano fare interventi di asfaltatura da parte del comune. L'interquartiere però non è la strada di un quartiere solo ma è la strada di tutta la città. È stata realizzata tanti anni fa e necessitava di un intervento che non è un intervento di semplice asfaltatura perché si tratta di asfalto drenante, di spessore di asfalto non dei 5-6 cm ma una cifra molto più importante. Non interverremo solo sulla strada ma anche sulle rotatorie, tant'è che il progetto che andremo a portare in giunta la prossima settimana sarà un progetto che riguarderà sia la strada anche le rotatorie, quindi complessivamente 400.000 euro.